In tre sono riusciti a far perdere le loro tracce dopo aver tentato di introdursi in un'abitazione del centro cittadino, ma uno dei quattro malviventi entrati in azione ieri notte a Canusa di Puglia è stato arrestato dai poliziotti allertati da una segnalazione anonima. Si tratta di Savino Lavacca, 45 anni, volto già noto alle forze dell'ordine e bloccato dagli agenti nella sua autovettura prima che potesse darsi alla fuga. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, analizzate dalla scientifica, hanno mostrato l'uomo mentre tentava di forzare la serranda di un garage che consente l'accesso diretto ad un'abitazione. Nella macchina del 45enne sono stati ritrovati anche arnesi da scasso. Sono in corso gli approfondimenti investigativi per risalire all'identità degli altri tre individui che componevano la banda. Lavacca invece è stato trasferito nel carcere di Trani con l'accusa di tentato furto in abitazione.